di quella striscia di squadre che sicuramente sono inferiori a Juve, Real, Marcellona, Bayer Mark, Queen, Solteggio, è stato favorevole, dopodiché i tre cambi che quasi sempre vengono effettuati con l'esterno che sulle altre squadre, capito? Ma c'è, dobbiamo sapere con chi andiamo a giocare, no? In Porta Cercasias. Tu però li provo, chi? No, io li provo, come? Guarda lì, tra i terzo c'è, Torino e Bianconera, quindi questo significa che stiamo per parlare di? Derby. Derby. Non è neanche una novità, perché ne abbiamo preso una delle queste cose qua, questo è un vero, perché ero più contento per loro. Marco? Guarda, io vivo il derby nazionale, un elemento imprescindibile dello staff e... Sì, possiamo parlare finché volete, però insomma adesso vediamo come finisce la partita di questa Sera della Roma. Ultima parte di J-Talk che abbiamo ritrovato in diretta su JTV, chioccia la JTV212, l'hashtag J-News, scriveteci, scriveteci il direttore, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Sì, sì. Guarda cosa c'è scritto dietro, commentacelo. Fanno di sfondamento. Ecco, io ti devo commentare. Eh sì, allora... Tu lo sai che è il tuo momento? Sì, cesso. Ah, che questo è il momento? Qualcosa di certo e chiaro, quello che avete fatto notare voi, che tanti juventini hanno notato, lo rimando all'autore, così vediamo che mi dice. Va bene, Zempendi, lo stavi citando tu poco fa, vediamo allora come hanno trattato i giornali, la materia. Questa mattina partiamo dalla gazzetta. Nicola? Eh vabbè. Carta, carta.